Giovedì 19 febbraio alle ore 21 per i turni Unico, Oro e Argento, la compagnia Mauri Sturno in collaborazione con la Fondazione Teatro della Pergola porta sulla scena del teatro Politeama di Poggi Bonzi una pura formalità, spettacolo tratto dal film di Giuseppe Tornatore. Una pura formalità è una lunga misteriosa notte dove un uomo aiuta un altro uomo a cercare di capire quel viaggio a volte stupendo e a volte terribile che è la vita. Una squale da stanza di uno squale do commissariato di polizia dove si alternano le vicende legate a doppio filo alla trama del film, ritenuto dai più, anche dallo stesso autore, uno dei migliori in assoluto di Tornatore. Biglietti in vendita alla biglietteria del Politeama il martedì e il mercoledì dalle ore 17 alle 19 e il sabato dalle 16 alle 19. Nei giorni degli spettacoli e dei concerti, dalle ore 18 e in orario di apertura presso Disco Shop Largo Campidoglio a Poggi Bonzi. Biglietti in vendita anche sul sito www.politeama.info.